Buonasera, allora a quanto pare in queste giornate Angela Merkel vuole giocare il ruolo della signora, no, Freyland 9, non so come sarebbe più giusto dire. La questione è molto semplice, ieri aveva già gelato i mercati con alcune dichiarazioni, poco fa è filtrata una frase molto dura e molto chiara pronunciata davanti ai parlamentari del suo paese nell'incontro riservato ma di cui evidentemente sono filtrati i contenuti. Avrebbe detto testualmente Angela Merkel non ci saranno, non passeranno gli euro bond finché sarò viva, insomma finché campo niente euro bond e potete immaginare la secchiata d'acqua gelida su tutti coloro che sperano di trovare una via d'uscita stabile dal vertice europeo di giovedì e venerdì prossimi. Teniamo presente che già la Merkel era stata accreditata di un giudizio perplesso, perlomeno nei confronti del piano che è stato inviato dai vertici europei e della Banca Centrale ai 27 capi di Stato e di Governo che animeranno il vertice di Bruxelles. I firmatari sono Herman Farron poi che è il capo del Consiglio dell'Unione Europea, Barroso che è il capo della Commissione dell'Unione Europea, Mario Draghi che è il presidente della Banca Centrale Europea e il presidente dell'Eurogruppo il lussemburghese Juncker. Tutti d'accordo su una serie di misure, ma ripeto anche su queste Angela Merkel ha manifestato la sua perplessità. Non stupisce quindi quello che poi è successo alla fine della giornata, a metà del pomeriggio hanno cominciato a fioccare le notizie sulle chiusure delle borse e inevitabilmente Milano ha perso oltre l'1% e quel che è più grave lo spread è andato su in alto ancora una volta. E del resto sia soprattutto in Spagna sia un po' anche in Italia sono stati piazzati nelle aste buoni del tesoro però a rendimenti molto più alti. L'Italia dovrà smaltire molto, dovrà piazzare molti i suoi titoli di Stato in queste settimane e quindi il rischio c'è ovviamente o di rendimenti alti o di aste insoddisfacenti dal punto di vista del numero di titoli piazzati e venduti. Questa è la situazione, tanto per spiegarla spero in modo chiaro. In tutto questo però il fatto che ci riguarda di più è stato l'intervento di Mario Monti che ha spiegato davanti ai deputati la sua strategia per Bruxelles e ha chiesto con un intervento, lasciatemelo dire, nitido, forte, molto chiaro, l'appoggio del Parlamento per una trattativa e per un vertice che sarà difficilissimo e la parola testuale è il superlativo testuale usato da Monti. Chi ha detto di essere disposto a restare e a trattare fino a domenica sera a Bruxelles, il vertice inizia giovedì, perché è importante e indispensabile che lunedì prossimo all'apertura dei mercati ci sia un accordo forte, tangibile, visibile, efficace, tale da appunto portare a una reazione positiva sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. I grandi partiti sembra abbiano appoggiato o fanno il gesto di appoggiare Monti, come si sa oggi ha visto prima Berlusconi e Alfano e poi da poco sta vedendo anche Bersani, mentre al ritorno a Bruxelles ci sarà anche l'incontro con Casini. C'è l'appoggio dei grandi partiti che del resto in questo momento stanno votando in Parlamento le fiduce per far passare a tambur battente la riforma del mercato del lavoro che pure non piace a molti esponenti della strana maggioranza che c'è dietro al governo tecnico. Ma come vedremo il governo stesso ha avuto delle difficoltà a far passare alcuni punti in commissione della spending review, tant'è che su un paio di passaggi in commissione il governo è andato sotto, nulla di irreparabile in aula ma un segnale ben preciso. Avremo tempo anche per vedere un bruttissimo caso, il caso Aldrovandi con un duro richiamo del ministro dell'interno Cancellieri agli agenti che hanno offeso la madre del giovane ucciso, vi ricorderemo la vicenda. E anche per vedere la visita del Papa ai terremotati d'Emilia, una visita davvero sobria e importante. Mandiamo in titoli direttamente. L'Italia arrivi al difficilissimo negoziato europeo con la forza di un tandem governo-parlamento. Invoca il Premier Monti oggi alla Camera in vista del Consiglio di giovedì. Noi, dice il Premier, non andiamo a mettere firme su documenti già pronti, siamo disposti a trattare oltre il limite previsto. E poi rilancia il fondo anti-spread, ma solo per i paesi virtuosi. Da PDL e PD la rinnovata fiducia al governo. Togliere l'appoggio sarebbe una catastrofe, dice Berlusconi, che poi ipotizza una sua ridiscesa in campo. Mi candido a fare il ministro, quello dell'economia, in un governo presieduto da Alfano. Nella sala dei parlamentari PDL cala il gelo. Scherza o fa su serio, chiedono in molti. La Merkel boccia il piano europeo di Farron Pui, Barroso, Juncker ed il presidente della Banca Centrale Europea Draghi. Nel rapporto si parla di innalzare i tetti di bilancio e degli eurobond. Finché Saro in vita, fa sapere la Merkel, non ci sarà alcuna condivisione del debito. Mercati, Milano perde l'1,1%, spreade a 465. Si spende sempre di meno per comprare. Da 11 anni mai consumi così ridotti. La crisi colpisce prima di tutto la tavola. Ad aprile le vendite al dettaglio sono scese del 6-8% rispetto all'anno precedente. E quelle dei generi alimentari del 6,1%. Ma la crisi investe ogni settore, si va da quello del lusso fino ai discount. La vicenda di Federico Aldrovandi. Lo studente di Ferrara, morto nel 2005, pestato da quattro poliziotti che lo avevano arrestato. Cancellati su Facebook gli insulti nei confronti della madre del giovane, postati da uno degli agenti condannati. Adesso la pagina dove si parlava di Federico in termini offensivi non esiste più. E il ministro cancelliere è pronto a sanzionare l'autore dell'ingiuria. Ricostruite con la fede, come nel dopoguerra, dice il Papa tedesco all'Emilia Terremotata. Su questa roccia non sarete soli. La prima sosta nel ricordo di Don Martini, il prete rimasto ucciso mentre cercava di salvare dalle macerie una statua della Madonna. Poi tra due ali di folla la visita alla zona rossa, col governatore Errani che dice qui non sarà come all'Aquila, niente New Town. Ricostruiamo dove sono crollati gli edifici. Buonasera, pochi minuti fa intanto il governo ha intascato il primo sì alla fiducia sul provvedimento di riforma del mercato del lavoro. Ma la Camera aveva ospitato oggi l'intervento dello stesso Premier Mario Monti in vista dell'importante dir poco vertice di dopo domani e venerdì a Bruxelles. Sentiamo subito cosa ha detto Monti. Una cosa è certa, quando Mario Monti arriva alla Camera per riferire e chiedere sostegno in vista del vertice chiave di giovedì sa che il suo discorso doveva mandare più di un messaggio. Il primo, vicino, è per chi è lì in quell'Aula. Credo che oggi in un momento così intenso e carico di preoccupazione per il futuro dell'Unione Europea sia importante che l'Italia arrivi al negoziato del Consiglio Europeo difficilissimo con la forza di un tandem governo-parlamento, di un sistema paese, di un motore unico che spinge con maggiore forza la politica europea a muovere nella direzione auspicata. Il secondo di messaggio deve andare più lontano, deve arrivare nel cuore dell'Europa dove l'Italia, anzi più propriamente lui, il Premier, sa di giocare un ruolo principale di mediazione se non altro per aver avvicinato la nuova Francia di Hollande e la vecchissima Germania di Angela Merkel, condizione non sufficiente ma certo necessaria per trovare un accordo. Credo che sia stato apprezzato il fatto che l'Italia abbia consentito un avvicinamento tra Francia e Germania. Naturalmente aver favorito un'operazione di questo genere non è senza risultati circa l'apprezzamento riservato all'Italia. È una medaglia sul petto alla quale Monti certo non rinuncia altrettanto però non rinuncia a ricordare che anche l'Italia ha una Costituzione, un Parlamento, riferimento diretto alla Germania che quando ha bisogno di un pretesto per non dire sì e capita spesso, li oppone come fossero un paletto. Ai tedeschi manda anche a dire che l'Italia chiede un meccanismo di alleggerimento degli spread valido per chi è in regola con i bilanci, insomma un premio alla virtù, non un salvacondotto finanziario per chi ha sbagliato. Ricordate il recentissimo G20 messicano dove l'Europa è stata in pratica indicata come pietra dello scandalo mondiale? Monti dice testualmente di essere stufo che questo accada. Ne fa una questione di orgoglio parlando forse da leader con confini più ampi di quelli italiani. Lunedì alla riapertura dei mercati qualcosa dovrà essere nero su bianco in concreto. L'Italia non andrà a Bruxelles a mettere la firma su documenti prestampati, come dire cose precotte, anzi Monti invita a considerare di restare la sua oltranza fin quando dall'euro cilindro non spunti qualcosa di convincente. È il venticinquesimo vertice, stavolta di piani B, non ce ne sono proprio. Sì, non ci sono piani B e per questo in patria Monti non ha lasciato nulla di intentato. Dopo essere stato ieri al Quirinale a riferire a Napolitano, oggi ha incontrato separatamente i leader dei due principali partiti. Insieme a Berlusconi c'era Alfano, o viceversa, se preferite, a Palazzo Chigi. Oggi, questa sera, era il turno di Bersani. Un consiglio dei ministri, un pranzo a Palazzo Chigi con Berlusconi, Alfano, Gianni Letta e il sottosegretario Catricalà. A seguire il discorso alla Camera in cerca del conforto del Parlamento, visto che di mozione unitaria della maggioranza per ora non se ne parla. Poi l'incontro con le regioni, mentre a Montecitorio cominciano le votazioni di fiducia sulla riforma del lavoro, più o meno all'ora dell'aperitivo il colloquio con Pierluigi Bersani. In mezzo la rassicurante telefonata di Casini, che non pone problemi. Solo la modalità è elenco dall'idea della giornata in cui Mario Monti tenta di blindare se stesso e la maggioranza nell'antivigilia del Consiglio europeo, quello in cui, secondo lo slogan più diffuso nel Palazzo, il Premier si gioca tutto. È rassicurante Berlusconi, dopo le intemerate anti-euro, la ridiscesa in campo dei giorni scorsi. Togliere l'appoggio a Monti sarebbe una catastrofe, dice i suoi, anche se il 78% del nostro elettorato non apprezza il governo, addosserebbero a noi la responsabilità, idem, a Bruxelles. Berlusconi sembra improvvisamente d'accordo con le critiche che Bersani rivolge a lui. È ora, per esempio, di rispiegare agli italiani con grande calma ma determinazione che chi dice torniamo alla lira e usciamo dall'euro è un passo. Raccontano che a pranzo Berlusconi abbia avuto toni ancora più concilianti con Monti, che abbia fornito la sua ricetta, una BCE più forte, prestatore di ultima istanza, ma già condita di pessimismo la ricetta, tanto la Germania non vuole. Germania, che questo lo ha ribadito, vedrebbe meglio fuori dall'eurozona. Il problema, anche per Monti, è la confusione che regna nel PDL, riunito in assemblea. Tanto confuso da attribuire a Berlusconi un giudizio pesante sulla strategia di Monti in Europa. C'è molta indeterminatezza, riferiscono abbia detto il Cavaliere, che in realtà si riferiva all'esito del vertice, all'impossibilità di prevedere l'approdo dei negoziati. Anche perché Berlusconi ai falchi raccomanda toni pacati. Così, tra Mugugni e Mal di Pancia, le fratture si ricompongono in aula con le parole di sostegno a Monti, pronunciate da Frattini, perfettamente sovrapponibili a quelle di Enrico Letta. Perché mai il PDL, dopo le pregiate parole di Frattini, non vuole votare una mozione unica, chiede Fini. Si fa sera e tocca a Bersani andare da Monti, sostegno scontato, ma anche qui è il partito a dare segnali contrastanti. Con gli occhi di Bruxelles puntati, Fassina promette che appena il governo il PD cambierà la riforma delle pensioni e quella del lavoro che sta votando, lunghissima la giornata di Monti. Eh sì, lunghissima e condita poi da una serie di elementi sconcertanti, perché i partiti, avete sentito Fassina che già parla per il PD di ricambiare la riforma del lavoro, i partiti pensano al dopo, apertamente, senza infingimenti. La campagna elettorale è già aperta e soprattutto c'è chi dice torno in campo, proprio Berlusconi che precisa, ma non per fare il Premier, per fare il Ministro dell'Economia di Alfano. Se ritorno in campo, sì, mi candido a fare il Ministro dell'Economia in un governo guidato da Angelino Alfano. Alla riunione dei parlamentari PDL, Silvio Berlusconi fa il suo annuncio a sorpresa di fronte ad una platea un po' indifferente, un po' perplessa, per la nuova pazza idea del capo. Non è del tutto chiaro se stia scherzando o parlando sul serio, forse. Entrambe le cose, dicono gli esegeti del verbo berlusconiano. In questo modo sdrammatizza i contrasti con Alfano, ma lancia lì l'idea di un suo ruolo forte in un eventuale esecutivo guidato dal segretario. Il suo modo per tenere tutto assieme, il Berlusconi di lotta e di governo, che torna in prima linea ma senza travolgere il Delfino, anzi, proponendo di rimanere un passo dietro di lui. Perché alla fine di una giornata che doveva essere decisiva per un partito sull'orlo di una crisi di nervi, non è ancora chiaro che cosa voglia fare Berlusconi, tentato dai cosiddetti falchi a rovesciare il tavolo e riprendere il partito in mano in prima persona, ma frenato dalla maggioranza di Colombe, che invece non vuole strappi a cominciare dal rapporto con il governo. Guardi, io le ripeto, non voglio essere né falco né colomba, ci tengo a non essere un piccione, perché sappiamo alla fine che fanno i piccioni. Io credo che in questo momento sia irresponsabile parlare di elezioni, credo sia necessario mantenere una maggioranza salda. Di primaria si parlerà più avanti, la riunione interrotta prima dal pranzo a Palazzo Chigi, poi dalle votazioni alla Camera, riprenderà la prossima settimana, quando l'esito del vertice europeo sarà chiaro. Nel frattempo Berlusconi sgombra il campo dall'ipotesi di frammentare l'offerta politica in un rivolo di liste tematiche. Ho solo ascoltato quelli che me le proponevano, ma sono contrario a questa arlecchinata, sicura, perché puoi vincere ma poi è difficile governare. Quanto a Casini, che propone un patto al PD, per Berlusconi attende cinicamente dove è la convenienza, ma se va a sinistra si poterà dietro solo il 10% dei suoi voti. Profezie per provare a rianimare un partito sfiduciato, Alfano assicura, i sondaggi ci danno in crescita, vincere si può. Questo è quello che si dice da quella parte dello spettro politico. Ma intanto, come abbiamo sentito, ci sono delle ombre che arrivano da fuori dell'Italia. Ancora una volta, oggi, Angela Merkel ha fatto sapere che di Eurobond non si parla proprio, anzi, ha detto, non li voglio proprio vedere finché vivrò. Niente Eurobond finché vivrò. Angela Merkel tiene il punto, anche dopo aver visto, appena ieri, affondare le borse del vecchio continente per i suoi no all'emissione comune di titoli europei. Inoltre, la cancelliera di ferro ha già fatto sapere di essere perplessa e avere dubbi anche sul documento di riforma dell'Unione Europea preparato da Mario Draghi, Manuel Barroso, Herman Varon Pui e Jean-Claude Juncker. Un testo scritto per tracciare la strada che l'Eurozona dovrebbe percorrere per uscire dalla crisi. Ma sarebbe troppo veloce, secondo la cancelliera, l'iter che porterebbe alla condivisione delle responsabilità sui debiti. È questo, come sempre, il punto. La Germania non vuole condividere il debito degli altri paesi, non vuole gli Eurobond ed ha accolto con freddezza anche il documento che il quartetto ha preparato in vista del vertice che inizierà dopodomani a Bruxelles. Incontro cruciale per la salvezza della moneta comune al quale la superregia europea ha cercato di aprire la strada con un piano che prevede più unione politica, più integrazione tra i paesi, meno sovranità sulle leggi di bilancio dei singoli stati. In pratica, quel che si va ripetendo da tempo. Una delle ricette contro la crisi dell'euro passa anche attraverso un'Europa più unita che abbia un ufficio del Tesoro Comune in grado di intervenire sui bilanci dei paesi che sfiorano i limiti del debito pubblico e del deficit. Il documento del quartetto prevede anche nuove norme sulle banche che sono state le prime responsabili della crisi mondiale e potrebbero essere controllate dalla BCE. Un'assicurazione europea dovrebbe inoltre garantire dai rischi sia le banche che i depositi dei risparmiatori. Anche in questo caso dunque un organismo sovranazionale dovrebbe limitare le sovranità dei singoli stati. Certo sarà difficile convincere Angela Merkel la cui intransigenza sugli euro bond ieri ha affondato le borse che oggi hanno chiuso in negativo anche per l'esito dell'asta dei trimestrali spagnoli che hanno come vedete triplicato il rendimento. Anche lo spread tra i BTP italiani e Bund tedeschi è tornato alto, quota 467 da allarme. Sempre in vista del vertice a Parigi si incontrano in queste ore i ministri delle finanze di Francia, Germania, Spagna e Italia. Per noi c'è il sottosegretario Grilli. Anche in questo quadrangolare l'obiettivo è arrivare a Bruxelles con qualcosa di concreto per dare un segnale ai mercati. E qualcosa di concreto è la riforma del mercato del lavoro. In questo momento è iniziata a Montecitorio la seconda votazione del secondo voto di fiducia richiesto dal governo. Si va a tappe forzate. Monti deve avere in mano questa riforma già approvata quando inizierà il vertice. Le riforme sono il grande tema. Sconfitto oggi potrebbe risorgere domani. L'asse PDL lega sulle riforme istituzionali. Senato federale in cambio del semipresidenzialismo. Una partita che rischia di buttare a mare le riforme concordate dalla maggioranza Monti ma di riaprire lo scenario della vecchia coalizione Bossi-Berlusconi. Utile in vista del voto se tutto saltasse. Il senato federale versione Calderoli non passa in Commissione Affari Costituzionali del Senato. 13 a 13 si astiene a un voto che vale no il presidente Vizzini che minaccia le dimissioni da relatore se salterà il patto PD-PDL-Terzo Polo. La rivincita si giocherà già domani in aula. Sulla carta PDL-Lega-Coesione Nazionale hanno 162 voti contro i 145 di PD-Terzo Polo-IDV. Insomma ce la potrebbero fare. E a seguire il carroccio voterebbe il semipresidenzialismo rilanciato da Berlusconi e Alfano un mese fa come l'uovo di Colombo per salvare l'Italia dall'ingovernabilità. Alfano spiega la mossa del PDL senza infingimenti. Per noi sarebbe una triplice vittoria dice la direzione del partito. Un gol istituzionale, il rilancio dell'alleanza con la Lega e la possibilità per gli elettori di scegliere direttamente il capo dello Stato. Certo è che se accadesse le riforme potrebbero finire definitivamente su un binario morto perché un varo senza i due terzi dei parlamentari seppure ci fosse il tempo e la volontà di completare l'iter complesso della riforma costituzionale aprirebbe la strada a un referendum dagli esiti incerti. Ed è questa l'accusa di Terzo Polo-IDV. Il centro-destra, dice Anna Finocchiaro, non vuole nessuna riforma tanto meno la riduzione del numero dei parlamentari. L'emendamento Calderoli riduce sì i senatori a 250 cui vanno sommati però 61 tra rappresentanti e presidenti delle regioni per un totale di 311 contro i 315 membri attuali dell'Assemblea di Palazzo Madama. La riduzione sarebbe effettiva, si fa garante però il presidente del Senato Schifani i rappresentanti delle regioni non avrebbero status e di aria dei senatori. argomento che fa infuriare il PD, Schifani è di parte, si dice e innesca una nuova polemica con il PDL ennesimo tassello di una rissa che ha tutto il sapore di un clima ormai da campagna elettorale. È proprio così, mentre a Roma si discute nei termini nei modi che vi abbiamo appena raccontato nel paese si fa i conti con una situazione che i dati di oggi della Confcommercio confermano nella sua difficoltà estrema. Un crollo così non si era mai visto la flessione dei consumi arriva anche a tavola e che gli italiani spendano sempre meno per mangiare è un segnale davvero pessimo. Secondo gli ultimi dati Istat, le vendite al dettaglio uno dei termometri di misurazione dei consumi sono impicchiata ma è la caduta del comparto alimentare quella che preoccupa di più. Gli italiani per la spesa spendono sempre di meno le vendite ad aprile sono calate del 6,8% rispetto ad un anno prima, quelle degli alimentari del 6,1%. Il record è negativo degli ultimi 11 anni. Ci sono poi le previsioni di Confcommercio osservatorio importante sul tema che provocano altro allarme. Nel 2012 la flessione pro capite dei consumi potrebbe raggiungere il 3,3% numeri che non avrebbero precedenti secondo Confcommercio nella storia economica del nostro paese. Questo è il momento più difficile riconosce anche il ministro Passera che con il piano crescita dovrebbe provare a far ripartire il paese. E ancora una volta a pagare di più la contrazione delle vendite al dettaglio sono stati piccoli negozi meno 8,6% di vendite su base annua. Non c'è stata poi nemmeno la corsa all'affare. Sono in forte perdita infatti sia la grande distribuzione sia gli alimentari a basso costo che invece all'inizio della crisi avevano dimostrato una buona tenuta. Una congiuntura che non può prescindere da stipendi e potere d'acquisto, un'altra nota dolente. L'aumento dell'1,4% su base annua delle retribuzioni registrato a maggio infatti lo ha praticamente divorato l'inflazione che è cresciuta del 3,2%. Insomma tra aumenti delle accise sui carburanti IVA e IMU il portafogli degli italiani è sempre più leggero. Ogni famiglia spenderà 617 euro in più nel 2012 ha calcolato la feder distribuzione ma intanto si fanno i conti con le vacanze estive che solo un terzo degli italiani potrà permettersi. C'è una brutta vicenda che nasce da una storia di qualche anno fa un giovane morto a Ferrara dopo le percosse degli agenti che l'avevano fermato. La brutta vicenda purtroppo inizia dopo la condanna. La ministra dell'interno Cancellieri interviene con una nota cerca di stemperare le polemiche sulla vicenda Aldrovandi gli insulti comparsi sul Facebook alla madre dello studente di Ferrara morto nel 2005 dopo essere stato fermato e pestato di botte da quattro poliziotti. Sulla pagina del gruppo Prima Difesa 2 le frasi della vergogna adesso sono state oscurate la pagina non è più disponibile, rimossa ma per giorni frasi come se avesse saputo fare la madre non avrebbe allevato un cucciolo di maiale ma un uomo e ancora è una falsa ipocrita spero che i soldi del risarcimento che ha avuto ingiustamente dallo Stato possa non goderseli come vorrebbe sono rimaste postate sul social network ad alimentare lo sgomento e la rabbia dei genitori del ragazzo insulti che partono proprio da uno dei quattro agenti condannati per la morte di Federico Aldrovandi in via definitiva omicidio colposo tre anni e sei mesi frasi che hanno provocato uno strascico di polemiche e di indignazione tanto che oggi la ministra cancellieri ha disposto un provvedimento disciplinare per sanzionare scritto nella nota l'autore del gravissimo gesto l'uomo è Paolo Forlani uno degli agenti condannati per la morte del ragazzo la madre del giovane Patrizia Moretti domenica scorsa aveva asporto denuncia a suo sostegno si erano levate numerose voci è uno strazio senza fine più della rabbia che c'è sempre adesso prova un grande schifo sono dei mostri aveva detto la donna invocando sanzioni disciplinari prima di Anna Maria Cancellieri era intervenuta la ministra della giustizia Severino che ha definito gravi e riprovevoli quegli insulti escludendo però che ci fossero gli estremi per un intervento del suo ministero oggi la nota del Viminale bene la punizione ma ora aspettiamo il licenziamento degli agenti ha commentato la madre del ragazzo sì perché i quattro poliziotti condannati fino in Cassazione sono liberi per effetto dell'indutto e ancora portano la divisa sono tuttora in servizio è necessario l'intervento risolutivo del ministro dell'interno perché la vicenda è molto chiara purtroppo nella sua sgradevolezza e anche nell'offesa a chi ha già subito la perdita di un figlio a proposito è stato suscitato molta impressione la vicenda che è successa oggi con quei ragazzini che erano in escursione con i rappresentanti di una parrocchia del Pratese sul monte Calvana sotto un caldo sotto il sole a picco alcuni dei ragazzini hanno cominciato a sentirsi male uno di loro ha avuto un arresto è stato portato in ospedale a Careggi ed è morto il bambino aveva 11 anni e ci si interroga ovviamente su questo tipo di gite che che vengono svolte evidentemente in una stagione che non permette di svolgerle senza che ci siano le dovute cautele e premure con questo caldo eccezionale ma andiamo a vedere che in un clima che era comunque di forte tensione e anche di forte commozione oggi nelle zone terremotate dell'Emilia è arrivato Benedetto XVI ricostruite come nel dopoguerra non vi lasceremo da soli il papa tedesco è nell'Emilia terremotata un viaggio che Benedetto XVI aveva in mente di fare da un mese da quando era andato a Milano per le giornate della famiglia e annunciò di aver donato 500.000 euro per la sua visita Ratzinger sceglie Rovereto di Novi un luogo simbolo a Rovereto nei crolli è morto il parroco praticamente un martire del terremoto tutto il paese si snoda intorno alla chiesa di Santa Caterina la strada principale si chiama strada chiesa nord e sud Benedetto parla di sicurezza da ritrovare nella fede ma anche un messaggio per istituzioni e singoli cittadini devono fare come il buon samaritano che non passa indifferente ma soccorre che ha bisogno non siete non sarete soli su questa roccia con questa ferma speranza si può costruire si può ricostruire Ratzinger arriva a Rovereto alle 10.30 la prima sosta è davanti alla chiesa sotto una trave della navata il 29 maggio è caduto Don Ivan Martini prete scout e cappellano del carcere ucciso mentre con due vigili del fuoco stava cercando di salvare una statua della Madonna ad accogliere il papa ci sono il fratellastro del parroco e due parrocchiane hanno una lettera per Benedetto gli chiedono aiuto per ricostruire il paese com'era l'angoscia dei terremotati è di fare la fine dell'Aquila con cricche e mafia intorno alla ricostruzione e soprattutto l'abbandono del territorio con Newtown sparse in decine di chilometri quadrati è questione di identità queste persone vogliono giustamente le loro piazze le loro chiesi i loro municipi il papa lascia la zona rossa attraversa due ali di folla in una fa pazzesca e raggiunge il palco cita il salmo 46 Dio per noi è rifugio perciò non tremiamo se trema la terra è una speranza notevole quella che ci ha portato ed è l'unico fatto che può farci ripartire un sollievo spirituale che non deve mancare dopo la benedizione Ratzinger saluta sale sul pulmino e riparte fra una settimana la prossima visita potrebbe essere di tutt'altro genere in Emilia potrebbe arrivare la nazionale ma per ora il viaggio degli azzurri è in programma solo in caso di vittoria finale e poi come sappiamo è quello che si augurano i milioni e milioni di italiani e forse non solo di italiani che seguono con trepidazione il cammino della nostra nazionale a questi europei di Polonia ed Ucraina come si sa dopo domani sera a Varsavia c'è Italia Germania proprio per questo e perché Italia Germania che negli stessi giorni abbiamo detto è anche una sorta di derby d'Europa per quanto riguarda tutto quello che vi abbiamo raccontato nel resto del telegiornale proprio per questo nell'avvicinarsi di quella partita che è così ricorrente nella sua forza evocativa nel calcio italiano abbiamo pensato questa sera dopo otto e mezzo di offrire alla prima serata della sette un programma che vi farà rivedere le telecronache quelle originali delle grandi sfide tra Italia e Germania a cominciare da quella che è stata definita la partita del secolo Italia Germania 4 a 3 dopo i supplementari del 17 giugno del 1970 allo stadio Azzeca di città del Messico la partita indimenticabile per definizione poi quella che ci consacrò i campioni del mondo nell'82 a Madrid Italia Germania a 3 a 1 e infine la semifinale del mondiale di Germania proprio del 2006 quando andammo a battere i padroni di casa 2 a 0 dopo i supplementari in un'altra partita bellissima vedremo tutte queste partite questa sera sulla nostra rete dopo 8 e mezzo che questa sera ospita non posso certo parlare di un esordiente perché Pierferdinando Casini anzi noi ci fermiamo e infine andiamo a vedere Wall Street Dow Jones più 0,54 Nasdaq più 0,84 Standard & Poor's più 0,75 sotto poco sotto l'1,25 sul dollaro l'euro 1,24 e 91 vi lascio a Lilli Gruber che ospite Casini a 8,5 e poi vi ricordo la serata di Grandi Ricordi Italia Germania buonasera domani Grazie a tutti